malvezzi quotidiani l'economia umanistica spiegata bene ho intenzione di fare nel mio piccolo e con i miei limitatissimi mezzi un piccolo esperimento sociale sono stato la scorsa settimana per motivi di lavoro a budapest e la cosa che più mi ha affascinato di quella città è il silenzio esiste il silenzio nelle strade esiste il silenzio nei bar nei locali pubblici le persone parlano in silenzio e per motivi che non riesco bene a spiegarmi forse dovuti alla logistica alla mobilità perfino le auto i mezzi di comunicazione non fanno il rumore che c'è nelle nostre città ho aperto due gruppi telegram uno riservato ai miei allievi che sono venuti domenica scorsa a seguirmi nel primo evento di economia umanistica l'altro aperto a tutti e voglio fare questo esperimento in tutti e due i posti voglio proporre un video che riguardi il silenzio non siamo più abituati al silenzio che ha un grande valore iniziatico un po come entrare in chiesa e sentire tutti che vociferano e parlano ci darebbe fastidio così entrare in un posto di studio di riflessione io credo che comporti il silenzio io vedo che le persone oggi non ascoltano più cercano soltanto di occupare lo spazio che c'è tra una battuta e l'altra non ascoltano l'interlocutore si pongono l'obiettivo di parlare e puntualmente nei gruppi che ho aperto appena arrivano le persone si mettono a scrivere senza leggere un regolamento senza cercare di capire cosa hanno detto magari le persone due o tre righe prima di loro ecco io oggi farò questo io oggi voglio proporre un video nei miei gruppi telegram in cui voglio fare farò un video in cui si parlerà del silenzio e chiederò alle persone di commentare stando zitte voglio vedere che cosa succede sarebbe curioso passare un'intera giornata non dico tanto ma un'intera giornata senza scrivere senza esternare il proprio pensiero senza dovere necessariamente commentare o criticare o polemizzare o insomma sfogare quella rabbia repressa quella insoddisfazione del vivere che probabilmente è la causa prima dello scrivere malvezzi quotidiani l'economia umanistica spiegata bene